Io sono Tai, siamo presi di mira da nemici invisibili chiamati virus e batteri. Sono Agumon, c'è un modo per combattere contro questi nemici! Innanzitutto è importante lavarsi le mani e sciacquarsi la bocca, quindi assicurati di eseguire una dieta adeguata e di dormire a sufficienza. E non dimenticare la mascherina quando esci!